Per noi sempre i congressi missionari sono una grandissima speranza, non dobbiamo dimenticare che nelle conclusioni di Aparecida c'è fortemente enfatizzato anche dal Papa Francesco la missione continentale, noi aspettiamo del Camp 4 che si possa mettere in pratica tutto quello che abbiamo discusso e che abbiamo parlato nei precedenti campi, per esempio ci fu l'iniziativa di formare un centro di preparazione di missionari in America centrale, questo è stato concretizzato già, però la missione non è cosa che tocca alcuni pochi, la missione è di tutta la Chiesa e per questo io aspetto di Camp 4 che possa motivare ogni volta in più tutte battezzate in questo impegno missionario. Certamente si vede come una grande speranza, come ho detto prima, però una grande speranza che ha bisogno di cuori infiammati di amore e di missionarietà, non è cosa soltanto dal cervello, San Paolo era un grandissimo missionario perché aveva un cuore che batteva guai a me se non annuncio il Vangelo, questo dobbiamo averlo tutti, un cuore missionario è quello che può impulsare più la missione.